Marco non sa che siamo entrati in un altro survival games vero guardate è un po' fa per bella raga eh lo diciamo bella raga ma si diciamolo inizio io inizio io inizio bella raga ok basta oggi continuiamo con i nostri minecraft anche se probabilmente lo state guardando lo stesso giorno state guardando nello stesso giorno due video uguali due video miei perché sono figo sono famose quindi fa più e siamo in un altro survival games dopo la mia sconfitta al deathmatch di prima perché dici survival games ma lo chiami davvero così o dici ma lo dico io così per ridere sono una te mi viene lo spawn e guardami dove sei pom 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 no ma per il tuo consiglio il bagnato che si ritorna allo spawn nella quella cosa ma per di vita ecco mi vedi chi ah ok ti vedo vedi guarda no che figo no potresti perdere vita giusto no no adesso lo testiamo subito no no io voglio provare a saffocare no sono finito sul tetto fa per di un fa mi hanno colpito anche a me sono sotto Marco io ti vado da sopra ahahah gg chissà perché fa così smettila ok smettila eh sta andando via dai da quanto entra con te inizio avvicinati mate battimi il 5 facciamolo sincronitato vieni qui 3 2 1 3 2 1 no nel senso nel senso di mani eh lo so 3 2 1 ma che cacchio fai vabbè pensavo lo potessi battere adesso di mano di minecraft 3 2 1 ah insieme mi sto guardando in f5 insieme yeah 3 3 2 1 dai mate bati il 5 su minecraft però girati pronto ah ti sto dando un miliardo di colpi critici sai ti sto dando un sacco di colpi critici le scorse olimpiadi quanti di young il cinese fallito quanti cuori hai? tutti marco eh quanti cuori hai? tutti strano ah marco ti vedo si eh eh dai prendiamo le cesta no anzi non prendiamole le cesta andiamo verso il sole ok? prendere le ceste meno parla più forte marco che non ti sento mi piace la ragione tunze 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 marco vuoi prendere le ceste si o no? siiii ok mi senti? si forse poco ti sento 1 siiii come uno è già morto che ca ahia no sono morto io ue 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 sono morto come? che tutto è successo the fuck come fanno a rire? no è impossibile ma come cavolo? evidentemente c'è un cheater ma non ho visto neanche la vita scendere io evidentemente un cheat ha usato nodus evidentemente si uff però non è giusto io lì devo iniziare si mica abbiamo giocato un secondo ma come nelle u4 c'è la lobby metti pause intanto no c'è la lobby quasi finita un minuto corri oddio eh marco il piano ok ci sei che ridere te sono morto nooo 494 punti eeeh e io continuo wow oddio lago impensuoso mate viene lo spawn io ne ho 107 eh mi vedi? si sono cazzata ma se tipo io provo a uscire riesco ad entrare eeeh no mi sa si forse si ricordati che leo 4 eh entra dai forse ci riesci però fa in fretta c'è mi ricordo oh wow oddio barbie blocks ma lo ricordo ma che succede? oh mio dio mio dio si stavano muovendo si stavano muovendo tutti tiiper velocissimi per provire p hadn't che tipica sta cosa e k sin i like iron man si oh si guarda che sono un po Melissa leu t beco pocco pocco coppa dai mat 보니까 3, 2, 1 No, siamo finiti Che cacchio è successo 3, 2, 1 Sul tetto Marco, sei un cheater Quando ti faccio colpi criti Ancora? Ah, no No, questo è orribile Dove sei Marco? Ok, bros Marco, sul tetto ce ne sono Ah, sì, ci sono quelle interne Oddio, c'è una skin bruttissima Non è molto Che brutto quello a fianco a me Ah, è praticamente uno stickman Qual è, Jonas? Non lo so No, KXXCamp Ah, ok, sì, sì, lo vedo Marco, io provo ad entrare Provo a salire da sopra, ok? Io da giù Ok, ah, c'è un altro fapper che ha avuto la mia stessa idea No, c'è mezzo questo C'è mezzo ai piedi Lo sto chillando, Marco Lo sto chillando Io ci... a chi? A uno, così Così li prende la roba che ha preso dalla cesta Sì, a me lo sto uccidendo Marco Ok Ho un arco, c'è Marco Sono pieno di roba Anche io e sto cedendo gente con la spada Ah, se ti fai Dove sei? Sono... aspetta che mi metto all'armatura Sì, sì Marco che ho poca vita Ho una cerina, un arco E... schifezze varie C'è Marco, ho bisogno... Ah, Marco c'è uno qua allo spawn Uccidilo, uccidilo Non sei neanche mostro È bloccato Ti do questo Marco c'è un altro con la spada in pietra Attento Ah, io mi sto facendo tanta bua Che c... Sto laggando Matti mi stai seguendo? Sì Eh, l'ho inciso quella là Non ancora Sì, più o meno ti sto seguendo Anche se ti... ah, ok, ti vedo, ti vedo Mi sto seminando con la stronza Boh, vabbè Esce, esce Marco un attimo Oh no, sono finito in un... Un posto GG proprio Matti, io sono uscito, vedete raggiungermi Dove sei uscito? Sono uscito da una parte, cacchio, mate Oddio, no Aspetta, sto salendo sopra gli alberi Ok, ok Oh, Marco, aiuto, aiuto, c'è quella laia, io Dove sei? Aiuto, sono uscito Scappa, scappa Mi vedi, Marco, aiuto Oh, no, sono morto Ok, sono... Non so neanche come abbia fatto Ok, lo vedo Ok, Marco, vai, vai, vai Ok, l'ho ucciso Devo rimanerti a guardare Oppure posso farne uno per... Eh, direi Mi vuoi aiutare Ho due diamanti e uno stick Davvero? Sì Che cacchio La partita è iniziata tipo da un paio di secondi E siamo già pochissimi Marco lo spawn è più alla tua... Da nessuna parte Ok, sto andando a farmi la spada, che cacchio Ok, Marco ti vedo C'è un tizio Dove? Nello spawn Sì Wow, wow Laga Vai, vai, lascialo perdere Non ha niente È shiftato, Marco, se lo vuoi uccidere È shiftato dietro un albero Aspettami se faccio il sbaglio in diamante È ancora dietro l'albero È shiftato Dietro un albero Eh, hai già detto, Matteo Anzi, dietro i due alberi adesso Dove? Indicami Eh, allora Eh, ok, sono andata dalla parte giusta Dalla parte giusta Vai, vai, vai Però come lagga Minga, quella di quelli li avrò tolto Ah, un troppo Almeno cinque cuori Vai, vai, vai Si è bloccato È solo per i punti Tanto non avevo niente, vero? Non avevo niente, sì, sì Minchia, sono troppo pieno di roba Cioè, Marco, io posso andare Guarda in un altro server, mi sa Ok Io vedo un 11 rosso Dopo il tuo Prima del tuo nome, sai? Matteo, dimmi come sono messi gli altri Sì Allora Eh, ce n'è uno quasi full ferro Barney Blocks Eh, praticamente full ferro Con le scarpe di oro Poi ce n'è un altro che Che spada, che spada Eh, non l'ho vista Comunque il massimo che ho visto Però è lag al server Allora, qui ce n'è uno Che non ha niente Vedo un tizio, Matteo Praticamente sotto di me Come cacchio è entrato? Come è fatto ad entrare qua sotto? Eh, lag TNT Time lo conosco Ah, no, è dentro È qui dentro la struttura, Matteo Si chiama Bo? Un Uno, due, tre, quattro No, dov'è? Non so, non l'ho letto Quale struttura? È dentro una struttura Ah, ok Sì, sì Eh, quello lo puoi uccidere Minga, se lo puoi succedere Non so, perché Barney Blocks Marco, ce n'è entrata L'ho ucciso Come? L'ho ucciso Come hai fatto ucciso? Cacchio, sono solo io Per power C'è Marco, c'è uno Con il mantello super epico Ma io non ho Optifine Quello è il bello C'è Pizza Killer, no Fish Kids Che ha il mantello super bellissimo Barney Blocks Ah, no, non era Barney Blocks Matteo, dimmi se dove sono Più o meno gli altri Eh, adesso Ti sto cercando Guarda come sono messo Di già Adesso ti cerco Dai Quanto lagga il server? Però io non ho freccia E qual è il problema? Ma quanto sta laggando il server? Ok Sto cercando Di dimmi se ti faccio qualcuno dentro una struttura Dove è morto? Eh, ok, sono da te Bravo Una me la adoro Ti sto mangiando No, ho mangiato un pollo Dove è morto il tizio Matteo, in circa? Non me ne sono neanche accorto Che era morto Mi servono frecce Matteo Io ti direi di andare direttamente a cercare Quelli da uccidere Sì, sto andando Sì, sto andando Sto andando Dai Marco, io vado In un altro server Vale, però mi serve anche una mano Matteo Se non siamo anche pochi Dai allora fermo la registrazione Magari Ma non la ricomincio Magari Matteo Quando sono al dettmè Ce la fa ripartire Eh, infatti Dai, a dopo ragazzi Perché stai guardando il muro? Eh, niente Perché stavo riaccendendo la registrazione L'ho riaccesa Ragazzi Marco qua Nella lobby con me Indovinate perché? Ah, no, lo spiego io Col server di merda La gava da morire C'era un tizio con l'arco Che Aveva Era tutto in ferro Tra ogni pantaloncini di chain L'avrei potuto ammazzare Lui però aveva anche l'arco Però va bene Non è che mi ha fatto tanto danno Così ho Io è venuto da me Ho iniziato a piccarlo Con la spada in diamante E E E boom Gli davo un casino di colpi Ma lui ne dava praticamente più a me Però anche io Gli ne davo Gli facevo più male E poi boh Sono morto così Poi dopo un po' lui Non so se è stato lui Che ha scritto lag Eh, anch'io Ho perso 28-27 punti Adesso infatti ne ho 517 Vabbè sono comunque tanti Lui Marte mi ha guadagnato 20 Per l'uccisione di quello là Con le mani No ma te te non hai capito Ma te che io Allo spawn Quando ho trovato la spada in pietra Ho fatto una strage Sì Ne ho ucciso Ne ho ucciso tre Tipo tre Supertau Aspetta che chiudo la porta Non voglio guardare tanto Continuiamo Un minuto Ok No adesso Adesso gli andiamo nello spawn Eh, sopra il tetto Ma io sono alla fontana Ti vedo Vedo un po' la chassaltella Sei tu Dai sparammi Te dai brutto strunzo Dai La gava Adesso è scelto Quella con l'arca Ah E' anche una skinnerribile No, sono nel tetto Ah, sei tu Ti vedevo volare da bombi Ilimi la blocchi Cuore acciaio Jigman Cuore acciaio Cuore ragazzo Che basta Dai ma te fanno Jigman Cuore acciaio Jigman Cuore acciaio Cuore di un ragazzo Che Dai 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 La testa Tutta Stata Sempre Lotterà S E' per se D'altro 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 Anzi L'avevo accanto Marco Hai visto quel nome strano Quello che aveva 100 punti Guarda Il nome di Cavolo No Sì Ah Per il creeper Andiamo sul Io vado No No Ah no È vero che in questa Non si può andare sul creeper È l'unica Mate Sono alla tua sinistra Devi seguire Marco sai cosa dovevamo fare Nella mappa della lava Andare sul creeper Cioè anziché l'acqua C'è la lava Ma dietro la lava C'è l'acqua Con una cesta doppia Ok Dai mate Devi seguirmi Mi vedi Sì Dove vogliamo andare Dalla cesta No Te mi segui Vieni Oh Dio Siamo messi malissimo Cioè Non siamo in una posizione bella No Dovevo andare Al passaggio segreto No Cacchio Lo avevano sicuramente già preso Quello che devo andare io Ti volevo dare un pugno Però poi l'ho detto No ma che troverà qualcosa di bello Quindi Ah nel ghiaccio Vandare Sì Ah c'è già uno Aiutami a deciderlo Con le mani Magari è un'arma Ah no non credo Ah della maglia Può essere che abbia preso qualcosa Aiutami a deciderlo Con qualcosa in mano Non capisco cosa però Neanch'io Davo 55 Fa per Uno Uno Ma questo Non è No aspetta No vieni Non è questo il ghiacciaio Vieni con me Quello magari trova spade E ci uccide Se no Marco posso mandare in questa isoletta Che è davanti No Deve mandare verso le ceste belle Ok Questo è vero Eh vedo le ceste in trasparenza Wow C'è un tizio Sei davanti a lui Sei Sì Oh cavolo Sto perso Ma adesso magari riesce a colpire il superkow che c'ho dietro No non hai superkow dietro Che merda Oddio ho preso da Non ci capisco niente Ci uccide la matta Oddio mi sta uccidendo superkow Aiutami a deciderla matta Vieni qui Vieni qui dai Veloce No no Picchio 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 No c'è il ghiaccio Marco Non ci capisco Cavolo Sto morendo sto morendo Stati su dai picchio Che è morto L'è ucciso Oh cavolo Una spara No scusa No eri tu eri Non vedevo niente No Mi dispiace Non vedevo niente Intanto tra poco devo anche uscire Dove devi andare Accidenti Dove devi andare Matte Dove devi allenare Deve andare alle 3 Sono le 2 Non vedevo niente Non pensavo così tu Bisogna guardare i nomi Anch'io guardavo sempre il nome Perché pensavo ci fossi anche tu Accidenti Ho troppa roba Cacchio Non so Questo non mi serve Neanche questo Neanche questo Questo Spada la uso Vabbè ragazzi Intanto vi lascio un attimo Intrettenere da Marco E io vado a prendermi una pesca Dopo ciao Una pesca Da Marco sì Va bene ciao Finita anche se Sei nell'acqua Tunze tunze dai Sì mamma Tu silenzio bravo E' un po' no Chi piace Non è Ti piacciono Le valde Non è Ti piacciono Le poche Basto Dammi Su cammello Su cammello Su Cammello Su Su Ti Non ti si Se Non ti si Tutto bene? Sì, sono morto C'è un tizio, sto scherzando Cosa è successo? Niente, sto scherzando, non sono morto Vieni qui te, stronzo Tanto muori domani Eh, non a te Sì, l'ho ucciso Che schifo, non avevo niente L'ho ucciso Matteo, non ti sento più Stai ancora Stai registrando, vero? Sì, ho spostato il microfono perché Wow, wow, ho preso fuoco Ho sbagliato Oh, altro fuoco c'è qua, no, grazie Crepa, fuoco, crepa Sei Niente, oddio, ciò Gigo schifo Gigo schifo Gigo schifo 1979 punti Allora, rosso, sai? Chi? Forse l'admin No, ma stai tranquillo che io ne ho visto uno dei 10.000 Oh, cacchio, che schifo Mi sento coraggioso Voglio andare a uccidere tutti Buona, una fresca per poco Matteo, stai giocando? No, sto guardando così Intanto c'è la lumi Ah Ah, già, c'è una doppia cesta dentro la nave pirata Toto tonto Devo mangiare Papà abbandonato Sono a fianco a Vox Cile Ello con mille e mila punti Io ne ho visto uno che ne aveva 10.390 Quindi, sapessi cosa vuol dire Dov'era la doppia cesta? Oh, un 5.939 punti No, l'anno francesco Ho già preso la doppia cesta Ma che cacchio era? Oddio, mi sa che ho visto un tizio Mmm, mi sono saluto Cosa? Mi sono saluto Sto cadendo C'è un fa perché mi dà pugni Ah, è iniziata la lobby E' la del gioco Oh, no, no Dov'era la doppia cesta? Non mi ricordo più Beh, anche io che so Giocando con la... Non riesco male Un'ora e mezza so Sei morto? Sì Bella merita, no? Sì Mi sacca due secondi e si è finita Ok Da un microfono adesso Ma che cacchio è la tua gesta? Fammi entrare, please Please, 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 please Please, 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 please No, non potete entrare Beh Tu in che EU sei? EU Ah, adesso non le ussette a fare la lobby Oh, forse io ho 40 Non troppo la doppia cesta Ma è questa? Cioè non è neanche questa la nave se non fa per Oh sì No, non è questa Mi sto prendendo per il culo Jigmon Cuore, acciaio, Jigmon Progamer, me lo ricordo Vediamo che ce lo spawn Sembrerebbe nessuno Però non ci vado Salta, salta, cavalletta Salta, salta, coniglietta Dunze Eccola qua Wow, wow The fuck? Devo mangiare La motion still Jigmon Che succede? Sto killando uno per finta alla lobby con una spada, sai? No, per finta Questo è bello Senti i rumori sani? No, non sento niente, perché? Così Non mi lo chiuso che mi piace Cioè l'hai visto le due master delle pie... Sì, eccola quella che piace Non ero un gran che, io mi spedevo qualcosa di meglio, tipo un reattore nucleare Quante TNT? È stata un po' la domicione No, ho preso di nuovo fuoco, porca tronca Non posso guardare È vero Che cosa è vero? Oddio, sti fuochi di merda, mi hanno dato le palle Mi dicevano che Nel MCSG stavano lagavano oggi È vero È vero Dai, sto prendendo sempre fuoco Un altro tipo è morto, sto prendendo fuoco Eh, cosa ha in strada? Beh, chi si chiama? Eh, cosa ha in strada? Olidei resort Olidei resort Io vado dall'altra parte del sol Appagano in stile Ok Inizia No, 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 no No, 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 no Challenge Corte Fappone, hanno preso tutto Sono andato un po' dalla parte sbagliata, però Che fa per? Che fa più allora? Oh mio dio Che cazzo è sto qua Scappa 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 Che cacchio è questo è un cheater della madonna Scappa 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 C'è un tipo che ha Testa e corazza Di diamante Dimmi se non è cheater Cheater con la c maiuscola E anche la spada in diamante E' morto What the fuck è morto E' morto what the fuck Ah no è stato bannato È stato bannato impossibile Non si possono trovare Oh mio dio sta arrivando Ce ne sono tipo Ce ne sono un numero random Tipo da 7 Porca trota C'è un numero spreciso Che è random se non sbaglio Sì Sì Che schifo Mi mette a pescare però Ah no Non si può neanche pescare Ah ecco non ce ne sta bene Wow 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 Non fa più Ti sto trollando Alla grata Ci vediamo in un prossimo episodio Arrivederci Bella anche da parte di Marco Bella mi sono dimenticato Alla grata Alla grata Alla grata Alla grata